Clienti, clienti, clienti. Questo è l'intro di questo video. Di che cosa vogliamo parlare oggi? Di questi benedetti clienti e come averne sempre di più. In questo video approfondiremo una singola strategia estratta dal nostro nuovo libro Sistema Richfit che trovi qui, vediamo se si vede meglio, BOOM, che trovi qui. Un nuovo libro di Casa Richfit che ti spiegherà, ti mostrerà come poter acquisire nuovi clienti senza spendere una valangata di soldi. O meglio, potremmo tranquillamente definire quella strategia in grado di darti clienti a costo quasi zero. E come è possibile? Lo vediamo proprio tra un istante. Intanto, lascia che mi presenti se è la prima volta che atterri sui canali di Casa Richfit. Io sono Emanuele Pianelli, cofondatore del Sistema Richfit insieme a Paolo Ricchi. E all'interno di questo canale ogni singola settimana troverai sempre nuovi video inerenti a marketing, vendita e management proprio dedicati agli imprenditori del fitness. Quindi, se vuoi continuare a seguire, se vuoi rimanere costantemente aggiornato, allora non devi fare altro che iscriverti al canale e attivare la campanellina così che immediatamente possiamo sempre informarti su ogni singolo nuovo contenuto. Ma torniamo alla strategia di Pablo, che prende un nome veramente particolare e vedremo tra pochissimi istanti in che modo funziona e perché prende proprio quel nome. Allora, solitamente quando si parla di acquisizione clienti, si ha sempre in testa quel desiderio di voler acquisire nuovi clienti che sono totalmente sconosciuti da portare in palestra, proprio per farli diventare dei veri e propri clienti paganti. Questo non è qualcosa di assolutamente sbagliato, ok? Ma è semplicemente piuttosto costoso e oneroso. Ci prende molto tempo. Ma non solo questo. Quando parliamo di clienti, vogliamo che siano nuovi a tutti i costi. E solitamente le strade sono due. Sono due le strade che maggiormente vengono prese. La prima, su tutte, purtroppo, è quella di aspettare che qualcosa accade. E ci sono dei momenti dell'anno in cui realmente questo accade. Prendiamo il mese di settembre, per esempio, o il mese di gennaio, o il mese di marzo, quando la domanda spontanea aumenta. E allora quello è il momento in cui acquisiamo nuovi clienti totalmente freschi. Ma è dato totalmente dalla stagionalità, dalla domanda spontanea, da quello che il mercato fondamentalmente richiede. Oppure dall'altra parte abbiamo la possibilità di fare della pubblicità, ok? O fare delle comunicazioni che portano quelle persone a iscriversi. Dei perfetti sconosciuti da portare in palestra. Questa seconda, in particolar modo, non è totalmente sbagliata. Anzi, può essere assolutamente utile se ben strutturata. Abbiamo creato un video apposito, lo trovi qui in alto, dove parliamo proprio degli approcci al potenziale cliente e di come portarlo direttamente da noi in palestra. Ma andiamo a vedere, nello specifico, cosa vuol dire acquisire un nuovo cliente. Una persona totalmente nuova a noi sconosciuta, o meglio, dove noi siamo totalmente sconosciuti. Abbiamo necessità di tempo, abbiamo necessità di soldi e di risorse e il risultato non è immediato rispetto a quando lo vogliamo. Dobbiamo investire, che è una cosa correttissima, e attendere che le varie azioni portino a me quella persona. E quindi cosa succede? Che i costi che devo sostenere sono completamente diverse e non ha senso investire in strategie del genere se primo ancora non ho esaudito tutte le altre che possano in realtà portarmi dei clienti freschi senza dover per forza spendere tonnellate e tonnellate di soldini, proprio perché possiamo attingere a ciò che già conosciamo, ovvero, per esempio, i clienti che sono stati con noi, dei super clienti magari, o delle persone che hanno frequentato il nostro club, ma che da qualche settimana, o da qualche mese, o addirittura da anni, ormai hanno smesso di fare acquisti da noi. Quindi sto parlando dei nostri ex clienti. E sono una fonte importantissima che possiamo tranquillamente sfruttare proprio per generare nuovamente dei clienti. Questo cosa vuol dire? Sicuramente dovremmo fare ammenda, e non è questo il video, su che cosa è successo e perché queste persone sono andate via. E questo lo puoi notare all'interno del tuo CRM, del tuo software gestionale, dove potrai notare un grande sbilanciamento fra ex clienti e clienti attivi. Noterai che c'è una grandissima differenza, specialmente se sei aperto da più di due anni. Noterai come gli ex clienti incominciano ad essere nettamente maggiori dei tuoi attuali clienti. Abbiamo diversi esempi, abbiamo veramente visto, visitate centinaia di palestre su tutto il territorio nazionale. Quando sono aperte a più di dieci anni, la sproporzione incomincia ad essere veramente esageratamente enorme, a prescindere dai blocchi forzati e da quello che abbiamo vissuto. Sono proprio tutti i dati collezionati negli anni, senza neanche rendercene conto. Ripeto, non lo affrontiamo in questo, ma vediamo come sfruttare questo pubblico, che è presente all'interno del nostro database, e che potrebbe ritornare a essere un cliente pagante. Quindi dobbiamo riattivarlo, dobbiamo renderlo nuovamente vivo. E utilizziamo questa strategia, come già detto, estratta proprio dal libro Sistema Richfit, che ci fa capire come poterlo attrarre in maniera un po' diversa. Infatti utilizziamo questo concetto del ne vuoi un po'. Cosa vuol dire ne vuoi un po'? Vogliamo fargli assaggiare qualcosa di nuovo che probabilmente non ha ancora gustato all'interno del nostro club. Quindi possono essere dei nuovi servizi che abbiamo inserito, potrebbero essere delle nuove aree che abbiamo aperto, addirittura nuovi allenamenti, nuovi trainer, nuovi orari di attività, nuovi eventi, nuova attrezzatura. Qualcosa che ancora il nostro cliente non conosce o non conosce in questa nuova versione. Potrebbe essere semplicemente la rivisitazione del nostro servizio. Se nel frattempo ti sei evoluto, hai cambiato qualcosa all'interno della tua struttura, è sicuramente un ottimo momento. E quindi vogliamo coinvolgerla in maniera diretta, proprio per farlo sentire importante. Infatti questa strategia punta punta non solo nel riattivarlo, non solo nel riprendere un rapporto, ma punta nell'esaltare quel rapporto col cliente, proprio nel portarlo a protagonista. Infatti vogliamo proprio immediatamente instaurare con questa strategia un rapporto dove vogliamo sapere la sua, su quello che andremo a vedere insieme. Quindi come facciamo a renderlo partecipe? Lo facciamo adesso con un esempio. Possiamo utilizzare fra le varie chiamiamole scuse di contatto quello che potrebbe essere il lancio del nostro orario di attività. Adesso meriterebbe non un video a parte, ma un corso a parte l'orario di attività. Non entreremo all'interno di che cosa voglia dire strutturare un'orario di attività che sia uno strumento di marketing in grado di generare clienti e soldini, ma entreremo nel concetto dell'orario di attività, che non è quella roba stampata stampata in bianco e nero dove magari sopra andiamo a segnare anche i vari errori perché nel frattempo non l'abbiamo più modificato. Quindi detto questo, facendo finta che hai un'orario di attività certamente fatto con tutti i criteri per generare clienti, quindi lo diamo per scontato, abbiamo diverse occasioni magari per rigenerarlo. Quindi se abbiamo programmato delle nuove lezioni, dei nuovi orari o un cambio trainer o qualcosa di nuovo per il mese di settembre, per esempio, dove vogliamo presentare quest'onore di attività, questa diventa un'ottima scusa per presentarlo in anteprime e farci dire la loro ai nostri ex clienti. Possiamo tranquillamente utilizzarla anche con i nostri già clienti, ma con i nostri ex clienti possiamo adottare proprio questa scusa dove stiamo per lanciare il nuovo orario di attività che include x, y, z oppure la nuova attività x o questo nuovo protocollo di allenamento eccetera eccetera e solo per i nostri migliori clienti per le persone che sono passate all'interno nel nostro club per te che sei già stato un nostro cliente abbiamo messo a disposizione degli slot degli appuntamenti o delle anteprime proprio per presentarle soprattutto per sapere che cosa ne pensi di questo nostro nuovo servizio di questo nostro nuovo orario quindi cerchiamo di coinvolgerli attivamente vogliamo realmente sapere la loro anche perché è uno dei migliori modi per costruire realmente addosso poi un servizio per capire sempre meglio come migliorarlo come ottimizzare anche quello che proponiamo quindi diventa veramente importante come concetto quindi questo è quello che utilizziamo come scusa quindi da lì costruisco proprio il processo dedicato quindi questa è l'idea ho l'orario di attività nuovo da lanciare dall'altra parte ho capito anche più o meno la formula cos'è che voglio ottenere quindi devo costruire il mio processo per fare in modo di poter arrivare al mio cliente potrei utilizzare un invito dedicato potrei mettere in una cartolina questo stesso invito e spedirlo al mio ex cliente potrei fare una chiamata chiaramente preceduta da tutto il resto dei materiali quindi delle lettere o delle cartoline o delle email dove inizio e continuo a comunicare col mio cliente rispetto a questo che sta per accadere dall'altra parte andrò a creare un percorso che lo faccia entrare in maniera differenziata che lo faccia realmente sentire importante e partecipe e ancora una volta preparerò un'offerta dedicata proprio per coinvolgerlo a ritornare ancora insieme a noi proprio per i suoi allenamenti quindi farò una proposta unica a un mio ex cliente ricorda perché parlo di proposta unica è una persona che ti ha già dato dei soldini non stai spendendo soldoni per acquisire nuovi clienti ma stai andando in maniera totalmente mirata a chi già conosci e a chi ti ha già dato dei soldini quindi il tuo costo di acquisizione cliente certamente si abbatterà si abbasserà notevolmente e quindi hai la possibilità di poter investire direttamente con lui con una proposta unica intendo non scontare l'abbonamento ma potrei dare dei bonus particolari potrei dare un servizio particolare magari la versione premium price del mio stesso abbonamento oppure far testare nell'occasione di una nuova iscrizione nuovi servizi ad alto margine secondo proprio il protocollo descritto all'interno di club on demand quindi abbiamo veramente molte azioni molta carne al fuoco per poter creare la nostra proposta unica quindi farò testare questo nuovo servizio o parlerò di questa nuova occasione mi farò dire la sua e quello che voglio è che lui possa rimettere un piedino in palestra riannusare il mio club ritornare al primo giorno di allenamento ospitarlo se è il caso anche per qualche lezione una, due, tre non è assolutamente un problema proporgli la mia proposta appunto unica quindi portarlo a ritornare un cliente attivo e dall'altra parte chiedere immediatamente la sua cosa vuol dire chiedere immediatamente la sua io voglio ottenere una recensione lo abbiamo coinvolto lo abbiamo fatto ritornare nuovamente con noi abbiamo nuovamente fatto assaggiare tutto lo abbiamo reso protagonista bene continua ad essere un protagonista dimmi la tua oggettivamente su quello che è stato quello che hai appena provato cosa ne pensi che cosa hai ottenuto già sin dal primo momento quindi qual è la tua prima reazione a quello che hai trovato voglio raccogliere una testimonianza non c'è cosa più potente di una recensione la recensione è la testimonianza è al plurale le recensioni e le testimonianze sono degli ottimi strumenti per coadiuvare le vendite possono aiutare i tuoi venditori veramente a fare la differenza e soprattutto a rendere molto più liscio quello che è il processo di vendita proprio perché tante persone potranno confermare quello che tu starai per promettere come venditore quindi andando a mettere in piedi questa strategia otterrò potenziali clienti andrò a riprendere riattivare i miei clienti fermi andrò a creare nuove opportunità di recensioni potrò utilizzare lo stesso una volta attivato quel cliente per mandarlo in sviluppo e quindi potrò avere la possibilità proprio di monetizzare questo sforzo a costo quasi zero partendo dai miei ex clienti piuttosto che andare lì fuori a cercare di capire come reinventare la ruota quindi parti da chi da una parte ti ha messo da parte o tu magari senza saperlo hai messo da parte farlo tornare ad essere protagonista della sua azienda della tua azienda e insieme a te poter costruire un nuovo rapporto che sia duratura e soprattutto che punti al futuro e non solo all'iscrizione immediata sappiamo benissimo quanto un cliente può essere importante soprattutto che valore può avere nel medio lungo termine quindi occhio sfrutta la grande questa strategia ma soprattutto fammi sapere la tua in merito a questa strategia e se l'hai già messa in piedi e cosa hai ottenuto mettendola in piedi altra cosa importante se vuoi approfondire questi concetti abbiamo programmato per il 2 settembre a Bologna un nuovissimo appuntamento dal nome Rich Fit Start trovi il link in descrizione dove avrai proprio la possibilità di poter conoscere dal vivo Rich Fit ma soprattutto iniziare con Rich Fit quindi capire quali sono i pilastri del sistema e in che modo possono essere d'aiuto all'imprenditore del fitness che vuole ottenere grandi risultati col proprio club ma soprattutto che vuole scrollarsi da addosso quella tradizione che ha portato a fare sempre le stesse identiche cose negli ultimi 30 anni quindi se vuoi scoprire questo manipolo di imprenditori saremo una manciata circa una trentina insieme il 2 settembre puoi tranquillamente richiedere l'accesso alla lista prioritaria in modo tale da farti contattare al nostro tutor e poter comprendere in che modo e se poter far parte di questo gruppo per il 2 di settembre a Bologna ultima cosa così passiamo ai saluti adesso è tempo di salutarci dimmi la tua su questa strategia l'ho già detto ma lo ripeto dimmi la tua su questa strategia ne vuoi un po' in modo tale da sapere in che modo ti è stato utile e lascia un commento rispetto a ciò che vorresti sapere conoscere approfondire per quanto riguarda marketing vendita e management nel mondo del fitness e del wellness detto questo un grande saluto da Emanuele Pianelli ci vediamo prestissimo e soprattutto crea il tuo miglior futuro ciao ragazzi ciao